Ciao ragazzi, benvenuti a questa lezione di goniometria sulle formule di addizione e sottrazione. In questa prima parte andremo ad analizzare la formula di sottrazione del coseno, quindi dimostreremo a quanto equivale il coseno di α-β. Per farciò prendiamo la nostra circonferenza goniometrica e scegliamo su di essa 4 punti A, B, M ed N. L'angolo che andrò a disegnare sarà l'angolo β, quindi quest'angolo qui lo chiamiamo β, quest'angolo qui lo chiamiamo α, lo indico con la linea rossa, quindi quest'angolo qui lo chiamiamo α e naturalmente quanto indicato, cioè quest'angolo qui sotteso all'arco M, M, è l'angolo α-β. Vediamo perché, perché se tutto questo pezzo qui, se tutta questa parte qui è α e questo qui è β, ovviamente α-β ci dà proprio l'angolo A, α-β sotteso dall'arco M, N. Per costruzione indichiamo con M e con α-β anche quest'angolo qua sotteso dall'arco AB. Quindi stiamo costruendo la figura in modo tale che, come se trasportassimo questo settore MOM sul primo quadrante, quindi abbiamo costruito noi quest'angolo in modo tale che esso sia congruente all'angolo α-β. Spesso i ragazzi non ricordano per quale motivo quest'angolo è α-β. Beh, il motivo è questo, lo stiamo costruendo noi in questo modo qui. Quindi c'è un angolo β, un angolo α, e due angoli α-β, quindi è α-β. Se ricordate, e dovete ricordarlo per forza per poter seguire questa lezione, cosa sono il seno e il coseno di un angolo, potrete capire, ovviamente, molto semplicemente che le coordinate di M sono coseno β, seno di β. Le coordinate di N sono coseno α, seno di α. Se non lo ricordaste, andate a vedere le lezioni precedenti, su seno e coseno perlomeno. Le coordinate di B sono coseno di α-β, seno di α-β. Le coordinate di A sono molto più semplicemente 1, 0. Bene, quindi partiamo dal presupposto che conosciate bene almeno il valore del seno e il valore del coseno di un angolo. Rimpiccioliamo questa figura per poter contenere tutto in un'unica slide e andiamo adesso a fare un'osservazione. Anzi, prima voglio dirvi una cosa. M ed N, quest'arco è l'arco AB. Abbiamo detto, sottendono due angoli congruenti, α-β e α-β. Di conseguenza, le corde M e N e AB dovranno avere la stessa misura. Quindi dovremo porre M e N uguale ad AB. Quindi la distanza tra M e N dovrà essere uguale alla distanza di AB. Se non ricordate questo, andate a guardare i teoremi sulla circonferenza. Quindi gli angoli α-β e α-β sono tra di loro congruenti e di conseguenza anche le corde M e N e AB dovranno avere la stessa misura. Quindi, a questo punto, rimpiccioliamo questa figura e andiamo a vedere come possiamo esprimere M e N ed AB. Bene. Allora, M e N, prima di tutto, la poniamo uguale ad AB. M e N chi è? M e N è uguale alla distanza tra il punto M ed il punto N. Ma il punto M ha come coordinate, tornate indietro se non lo ricordate, cosen-β e sin-β. Il punto N ha come coordinate cosen-α e sin-α, quindi la distanza tra due punti, riguardatevi l'apposita lezione se non lo ricordate, deve essere uguale a cosen-β meno cosen-α al quadrato più sen-β meno sen-α al quadrato. Allo stesso modo, AB dovrà essere pari a radice quadrata di cosen-α meno β meno 1, perché A ha come coordinate 1, 0, al quadrato, più sen-α meno β meno 0, in realtà possiamo anche evitare di scriverlo, al quadrato. Bene. Ora abbiamo detto che dobbiamo porre M e N, la misura di M e N, uguale a quella di AB. Ma se è vero questo, è vero anche che M e N al quadrato è uguale ad AB al quadrato. Quindi possiamo eliminare le radici e porre M e N uguale ad AB. Immagino che siate abbastanza maturi oramai da poter svolgere con facilità questi calcoli, quindi saltiamo qualche passaggio ed andiamo già ad elevare al quadrato i vari termini presenti all'interno delle radici. Quindi cosen-β meno cosen-α al quadrato. A quanto è uguale? Beh, è uguale a coseno al quadrato di β più coseno al quadrato di α meno due volte il doppio prodotto del più per il secondo. Quindi meno due volte coseno di β coseno di α. Stessa identica cosa per il secondo pezzo di questo radicando. quindi seno al quadrato di β più seno al quadrato di α meno due volte seno di α per seno di β. Spero che sia chiara la grafia. Se così non foste fatemelo notare con qualche commento eventualmente. Quindi meno due volte il doppio prodotto del più per il secondo, seno di α per seno di β. Tutto questo deve essere uguale a cosa? A. Abbiamo già elevato al quadrato tutto il pezzo a b, quindi ci resta ad elevare al quadrato i vari pezzi di questo radicando il primo e il secondo. Quindi uguale a coseno di α meno β al quadrato. Quindi coseno al quadrato di α meno β. α meno β più 1, che sarebbe meno 1 elevato al quadrato, meno il doppio prodotto dell'ottimo per il secondo. Quindi meno due volte coseno di α meno β. Tutto questo più, beh qua è semplice perché c'è soltanto un singolo termine, quindi il seno al quadrato di α meno β. Va bene. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sommare i termini che sono tra di loro sommabili. Ricordiamo la legge fondamentale della goniometria, secondo cui il sen quadro di un angolo più il coseno quadro dello stesso angolo è uguale ad 1, e quindi possiamo iniziare a sommare il coseno quadro di β e il sen quadro di β. Tale somma è pari ovviamente ad 1 più. A questo punto possiamo sommare il coseno al quadrato di α e il seno al quadrato di α, e tale somma ci dà ovviamente 1 per la stessa legge precedente. I due termini restano uguali. Tutto questo è uguale al secondo termine, quindi al termine che abbiamo scritto più in basso questa volta, e possiamo fare esattamente lo stesso discorso. Quindi il coseno al quadro di α meno β può essere sommato al sen quadro di α meno β. Tale somma è pari ad 1, quindi lo scriviamo qui 1. Poi c'è un più 1, che è questo qui, meno due volte il coseno di α meno β. Bene, a questo punto cosa possiamo fare? 1 più 1 fa 2. 1 più 1 fa 2 anche dall'altro lato, quindi possiamo ovviamente cancellare questi 1. Poi rimane meno 2 coseno β coseno α. Meno 2 seno α seno β uguale a meno 2 coseno di α meno β, quindi possiamo ovviamente dividere per 2 sia il primo che il secondo membro. Quindi togliamo questo 2, questo 2 e questo 2. Questo meno, questo meno e questo meno possono diventare più, più e più. E possiamo riscrivere questa formula finalmente nella sua ultima espressione, che è la seguente, cioè coseno di α meno β. Quindi il coseno di una differenza di angoli uguale a coseno di α coseno di β, ho invertito i termini di questo prodotto qui, coseno β coseno α, più seno di α seno di β. Quindi il coseno di α meno β è uguale al coseno di α per il coseno di β, più il seno di α, il seno di β. Quindi qua c'è il coseno di una differenza, coseno di α meno β. E' uguale, questo coseno di questa differenza è uguale a coseno di α per coseno di β, più, quindi si inverte il segno che c'è tra i due angoli, più seno di α seno di β. Questa è una delle quattro formule di addizione e sottrazione, e precisamente è la formula di sottrazione del coseno. L'abbiamo dimostrata e nella seconda parte di questa lezione ricaveremo tutte le altre tre, a partire da questa qui appena dimostrata. Vi ringrazio per aver guardato questa lezione.